ciao ragazzi oggi siamo in un nuovo video su minecraft per continuare il macello dell'altra volta per andare a trovare una cassa come siamo sempre con boschi 96 saluta ok ciao ciao se vi ricordate nel scorso video sono finito con un botto ma stavolta non faccio così stavolta ecco dai continuiamo a trovare la cassa ma vedete io sono che metto skin ho messo il biscotto il biscotto certo lo so che mi viene fame però ci resistete ma prendete il pop corn, potatine e mettetevi il video allora continuiamo qua dai vediamo se ci porta da qualche parte speriamo di non capare l'altra volta qua c'è lava ma non credo che sia una buona strada vabbè continua comunque aspetta vediamo se riusciamo no no Alex dai non fa una butta fine aspetta che perchè non si spegne non muovimi bene perchè non si perchè non si spegne eh si è stato troppo tempo dal fuoco ed eccoci qua ragazzi di nuovo dopo la morte di prima continuiamo è stato un macello per ritornare qui continuiamo all'esplorazione si si anzi giriamo di qua viene mi sono nascosto un po' da una parte non so dove ah si dove abbiamo uccisi attenzione attenzione via i catipolanti andiamo da questa parte vai vediamo se sta questa benedetta cassa qui che c'è troviamo funghi funghi si voglio notare qua è chiuso è chiuso o non è che sta qualcuno si è chiuso niente è chiuso è chiuso niente dai cercare di trovare un'altra fortezza si infatti che forse ci siamo bloccati proprio qui aspetta qua sopra salve immobili qua sopra c'è un muro si c'è qualcosa c'è qualcosa vedi c'è la si continuiamo vediamo eh infatti vedi qui c'è un posto proprio nuovo là c'è un un blocco di magma muri oh piccoli ok vediamo da qui cosa c'è ci sei Cristian? si ci sono ok Cristian poi dobbiamo farvi dire ai ragazzi che abbiamo fatto tutta la casa nuova un casino di cose eh si qui che è successo? qui oddio dove c'è me lo porta? vedi c'è misteri troppo misteri misteri i misteri qui che c'è? posso scrivere qua? dove? lascarsi lì è lì bravo no sta piccozza qua è fortissima ok cosa c'è qui? no niente è il posto dove stavamo prima uh crolla crolla tutto ok attenzione attenzione oddio oddio munite tutti attenzione che sopra c'è quello grosso c'è quello grosso adesso l'ho visto aspetta vieni 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 muri allora dai no un macello di cose ok ma era lo spawn qua eh qua sopra? era uno spawn di quei mostri come faccio a venire lì? da qui senza alto ok perfetto vediamo ah qua stavamo prima si qui ci sono e così che illuminano dove possiamo andare? vediamo ah qui si esce vediamo che ci fanno i funghi? i funghi i funghi nel sottomoto funghi funghi da qua si esce no no qui gira io ho fatto qualcosa secondo me vedi che sto dietro di te sto dietro di te sono qui ma eccoti stavo qua sopra ragazzi alex gioca nascondino si sul mantra e hai il posto che è un casino però qui purtroppo è pieno di questi bastardi che hanno fatto fastidio dai è morto è morto è morto è morto e vai vediamo cosa c'è qui sopra per orientarci qua non siamo mai stati giusto maestà qua c'è la fortezza sotto ok attenta che io sto mettendo il fuoco che ho andato le torce si si andiamo qui aia andiamo a mangiare minchia stavo morendo oddio stavo mangiando anch'io no voglio morire aia si aspetta allora un po' un po' di orientamento no no ok qui è alto però mi stai bruciando eh anche io io mi sto bruciando da solo ok eh vediamo qua stavamo qua sotto stavamo prima forse dai vediamo di trovare questo meraviglioso no qua non ci siamo mai stati eh mai allora andiamo 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 è tutto a buio dove hai fatto il buco che cosa il buco ecco allora li stavamo apriendo via 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 cassa aiaiaia giusto da qui dove ti va è aperto ma dove potrebbe essere questa cassa ah bisogna trovare per culo eh devo trovarla guarda che ho trovato il nostro panticello che abbiamo fatto nel scorso episodio vedi hai visto? che bello almeno sappiamo dove siamo ok dai dovrebbero stare altre fortezze giusto? eh amico un po' di sweats sai che intendo eh? eh eh allora allora guarda cosa è ma non c'è allora dai vedi che c'ho le io dovrei avere le torce infatti ce le ho è brava devi che metti tu le torce che si si mi sto solo dicendo viva ma non siamo mai venuti qui c'è il ponte dove stiamo già andati si infatti ah ah si siamo ritornati dove sono morto lì c'è la lava allora continuiamo cioè aspetta lì c'è un maiale zombie come cacchio si chiama pigman giusto allora vediamo un po' non deve ma attenzione sta arrivando già quello ma che è contato si qui sto scavando a muzzo però non non abbiamo non trovò niente dove sei sono sono dove sto sto mettendo le scatole dove sono morto ma sai che c'ho due di cuore e poi sono morto scusa come hai fatto ad andare la sosta maia ma non è giù esco fuori e arriva quel rompiscatole ma scelte mi stai ma cosa hai detto da me ma vai via da dove sei uscito da dove sono morto e come faccio c'è c'è la scala e se non prendo la scala sono sono caduto io non voglio rischiare ci sono dai continuiamo ma mi sembra non c'è niente da fare questo qua eh ma è una seccatura ma è pigno dai 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 muri dove sei ecco ti muri eh se n'è andato se n'è andato se n'è andato dai dai possiamo andare devo mangiare aiuto eh no io sto bene ok andiamo andiamo continuiamo dai deve stare un'altra forza assolutamente ci vediamo che c'è la lama eh lì c'è il gas a sopra dove sei attenzione dobbiamo salire dobbiamo vedere cosa c'è aspetta qua possiamo girare è questo scaviamo qua sopra c'è i blocchi i blocchi dovrei averli si no perché così ci sono i blocchi invece che si scavano sempre ok dai ci stiamo riuscendo ecco sono sopra andiamo qua sopra andiamo ogni tanto c'è qualche micro lag eh si secondo me perché devo caricare il mondo eh per quello allora qui invece per andare là come si può fare ah là c'è la tua scala e là c'è il portale ah tutto si collega bene no no non mi devo dire non mi devo dire come ho fatto ad ammazzarti ti ho colpito con l'arco ok 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 autosalvataggio tra 3 2 1 2 1 via auguri di buon compleanno ok qua tutto si collega ah ragazzi se questi sei vi piace mettete dei parici in su si ovviamente vi mettete un porto di più in su perché così mi aiutate molto a crescere ho visto che io in vlog ecco il mio vlog di è andato molto bene dai 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 vieni dai vieni dai vieni ti faccio il culo verde dai vieni come che ti faccio il culo verde dai vieni dai vieni dai vieni dai vieni dai vieni mi hanno dato proprio dei nomi sexy a questi personaggi sono qui sono qui ok oh via via che meglio puzza via allora qua è alto ovviamente è alto e come facciamo ad attraversare ma oddio mi sono abbassato e la palla di fuoco mi ha scrivato la palla Christian direi che questa puntata può finire qui perché la cassa non siamo riusciti a trovarla nel prossimo episodio vediamo di ritornare al portale se ci riusciamo io non devo morire ah si se non moriamo infatti Christian saluta ok ciao raga voi mettete dei pollici in su aiutate i pollici in su quando vi iscrivetevi al canale ok aiutatelo perché voi vado i video strafigi perché sono fanate ridere ok i ragazzi che vengono a fare il vlog di 100 iscritti qui succede un bordello e le tigme è la funghetta e non sta ridendo anche a me ciao ragazzi noi ci vediamo al prossimo video bella